Infiltrazioni e perdite d'acqua alla stazione ferroviaria di Agropoli. A poco più di un anno, da quando Trenitalia decise di investire sulla stazione di Agropoli Castellabate, lo scalo oggi presenta diverse problematiche legate appunto all'acqua che penetrando lungo le pareti sta provocando diverse crepe nelle mura. In alcuni punti si notano anche dei residui di calcinaccio caduti a terra. Dalle immagini inoltre si evincono delle piccole pozze d'acqua sul pavimento. Probabilmente la causa di queste perdite da ricondurre alle piogge che, accumulandosi sul tetto della stazione, creano dei ristagni d'acqua che vanno poi a infiltrarsi nelle pareti della struttura. Grazie agli interventi realizzati presso lo scalo ferroviario agropolese, oggi la stazione presenta un aspetto completamente diverso. Tra i lavori che hanno dato il nuovo look allo scalo ferroviario agropolese, il rifacimento dei marciapiedi della banchina del primo binario, la realizzazione di un ascensore per i disabili e nuove sale d'attesa. Nell'ambito di tali lavori sono stati posizionati anche dei tornelli per limitare l'accesso ai soli possessori di biglietti o abbonamenti, ma proprio in merito ad alcuni di questi lavori mai attivati, solo pochi giorni fa è intervenuto il consigliere di minoranza del comune di Castellabate Luigi Maurano, che ha inviato una lettera alla Direzione Territoriale di Rete Ferrovie Italiane e alla Direzione Regionale Campagna di Trenitalia, affinché si attivino per rendere funzionante l'ascensore, in modo da rendere pienamente accessibile e innovativa la stazione di Agropoli Castellabate. Infatti, molti disagi si sono registrati a causa del mancato funzionamento dell'ascensore, con difficoltà d'accesso per le persone con disabilità. Nonostante i lavori di restyling risultano ancora altri problemi, quali tornelli inattivi, carenze di posti auto e la mancanza della polfer, che andrebbe rivalutata, per garantire ai pendolari in maggiore sicurezza presso la stazione ferroviaria, in particolare di notte.